Signora Veronica sedeva in cucina e non aveva assolutamente voglia di andarsene. Presto sarebbe arrivata la moglie di suo figlio e lei non voleva vederla né parlarle. Ultimamente i loro rapporti si erano talmente inaspriti che entrambe a malapena riuscivano a sopportarsi. Se signora Veronica era sempre pronta a scendere a compromessi, India non aveva nessuna intenzione di cedere. Ogni volta che tornava a casa, raccoglieva i capelli in una coda alta, indossava una vestaglia e si trasformava in una vera migera, pronta ad attaccare la povera vecchietta in qualsiasi momento. Signora Veronica guardava fuori dalla finestra, non perché ammirasse il bel paesaggio autunnale, ma perché aspettava che arrivasse la moglie di suo figlio. A volte desiderava tanto tornare al luogo in cui viveva prima, ma non poteva permetterselo. Suo figlio stesso l'aveva portata dal villaggio e lei doveva restare qui, affinché lui potesse risolvere i suoi affari, fare i lavori di ristrutturazione in quella casa, come aveva promesso, e poi lei sarebbe sicuramente tornata. Ma se all'inizio signora Veronica sperava di tornare proprio entro l'anno, tutte le sue aspettative si erano rivelate errate. Prima pensava che sarebbe tornata entro un mese, ma non se ne fece nulla. Poi la data si spostò sempre più avanti, e lei restò qui. Una ragazza alta si era appena mostrata dietro l'angolo. Stava litigando con qualcuno al telefono, cosa che per lei non era affatto sorprendente. Signora Veronica si contorse tutta, sapendo che si trattava della sua nuora. Avrebbe voluto che entrasse in un negozio o che parlasse al telefono più a lungo, così la povera vecchietta avrebbe potuto stare a casa in tranquillità e silenzio, almeno per mezz'ora in più del solito. Ma, come per dispetto, Inga non aveva intenzione di distrarsi. Si avviò verso l'ingresso. Chiuse la chiamata, guardò in su e salutò signora Veronica con la sua lunga mano sottile. Sembrava quasi che la stesse prendendo in giro. Signora Veronica sentiva che la situazione si stava aggravando, e che più restava lì, peggio diventava. Doveva assolutamente parlare con suo figlio, affinché la aiutasse, affinché la riportasse indietro. Anche se i lavori non erano ancora finiti. Allora, com'è andata la giornata? Ancora niente da fare? Sempre lì vicino alla finestra? Come se vi avessimo portata qui per stare seduta e non fare niente, disse Inga. Ma se io già lavo, pulisco, mi prendo cura di voi e cucino. E mi dici che non faccio nulla? Va bene, Inga, non c'è bisogno di parlarne, è inutile. Tanto per te sono sempre colpevole di tutto, disse la donna, cercando con tutte le forze di trattenersi. Ah, come se aveste cucinato una zuppa e vi foste sfinita dal lavoro, rispose Inga. E la vecchietta si accigliò, rendendosi conto che spiegare qualcosa sarebbe stato impossibile. Io e tuo figlio, tra l'altro, lavoriamo per mettere a posto la vostra casa e per rendervi almeno un po' più comoda la vita. Ma quello che cucini e pulisci è tutto grazie ai nostri soldi, quindi non montarti la testa, disse Inga. Sorrise trionfante e sul suo volto si dipinse un'emozione piuttosto ambigua. Si vedeva chiaramente che nella sua testa aveva già vinto questa battaglia verbale, ma alla solennità del suo volto si aggiungeva un sorriso di disprezzo. Non sopportava la madre di suo marito, anche se quella non aveva mai litigato con lei, almeno finché Inga non cominciava per prima. Inga di natura era piuttosto litigiosa, quindi non sorprendeva che quasi ogni loro conversazione finisse con una discussione. Litigavano quasi fino a sera. O meglio, Inga litigava con signora Veronica, mentre la vecchietta sopportava in silenzio. Incassava tutti i suoi insulti e cercava di far finta di non essere coinvolta. «Sai, ho pensato, qui stiamo sempre a litigare, e in realtà io non ti sopporto mica per caso», ammise onestamente Inga. E la sua schiettezza suscitò persino una certa forma di rispetto in signora Veronica. Era meglio che dicesse sempre la verità, piuttosto che cercare di mascherarla, visto che non era affatto brava in questo. «Noi, tra l'altro, siamo una famiglia. Io e tuo figlio lavoriamo, mentre tu, invece di lasciarci quella casa in campagna, non ci pensi neanche. Sei già vecchia, potresti andare in una casa di riposo, e noi avremmo la nostra casa. Non sono poi così vecchia», rispose signora Veronica. «Quando sarai alla mia età, capirai che anche a quest'età si vuole ancora vivere. Io me ne andrei volentieri, vivrei da qualche altra parte, ma per una casa di riposo è ancora troppo presto per me, non c'è motivo di cancellarmi dalla vita». Inga fece una smorfia, stava per dire qualcosa, ma in quel momento la porta d'ingresso scattò. Alberto entrò in casa. Sembrava terribilmente stanco, sfinito. Tutto in lui faceva capire che era esausto. Era pallido, chiaramente aveva fin troppi problemi e non aveva alcuna voglia di affrontare tutte quelle liti. «Alberto, tua madre sta facendo un altro scandalo», disse Inga, senza distogliere lo sguardo da signora Veronica, che ormai si era abituata al fatto che lei la mettesse sempre in cattiva luce. «Noi lavoriamo, siamo stanchi, e lei sta a casa e ci fa pure le scenate». «Inga, ne parliamo dopo, lasciami almeno sistemarmi», rispose Alberto. Era così stanco e infelice che sua madre si preoccupò per lui. Non lo vedeva così da tanto tempo. In realtà, signora Veronica provava molta compassione per Alberto, soprattutto considerando la situazione difficile in cui si trovava ora. Gli era estremamente difficile affrontare tutte le difficoltà che gli erano piombate addosso. Inoltre, sua madre sentiva che c'era altro, qualcosa che non diceva a sua moglie, e forse nemmeno a lei. E questo qualcosa lo stava consumando dentro, impedendogli di vivere normalmente. Mentre ti metti in ordine. «Lei continuerà a tormentarmi», disse Inga. La sua voce suonò molto rimbombante, ma si corresse subito, ripetendo la frase e fissando suo marito. Aspettava ancora che rispondesse in modo adeguato, che mettesse sua madre al suo posto. Ma lui continuava a tacere. «Inga, quanto puoi mentire, sfacciata. Nessuno ti tocca. Entri dal lavoro e subito cominci ad attaccarmi. E poi, non appena mio figlio arriva a casa, inizia a dire che sono io a fare tutto questo. Non ce la fece più signora Veronica, che si sentiva sempre più fuori luogo in quella casa. Sentite, siete persone adulte. Possibile che non riusciate a risolvere questa questione da soli. Davvero, quanto ancora devo sopportare? Sono forse io una panchina della riconciliazione? Sedetevi. Parlate. Chiaritevi. discutete. Trovate un compromesso. E basta», disse Alberto con tono deciso, chiaramente infastidito dal fatto che dovesse spiegare cose così basilari. Agitò la mano con disprezzo e se ne andò sul balcone vetrato, dove passava molto tempo. Quello era il suo piccolo studio, dove teneva una scrivania, un computer, e dove la vista della città notturna che si apriva dalle finestre lo calmava, permettendogli di concentrarsi solo sul lavoro. Era stanco di quegli scandali, ma era ancora più stanco dei problemi che lo perseguitavano senza tregua. Avrebbe voluto risolvere tutte quelle difficoltà, ma più la situazione peggiorava, più capiva che probabilmente sarebbe stato impossibile uscirne da solo. Quando la porta si aprì silenziosamente, capì subito che sarebbe entrata a sua madre. India entrava come se fosse a casa sua, non bussava mai al suo studio, i rompeva come una furia e iniziava a imporre le sue regole. Sua madre, invece, entrava sempre in punta di piedi, bussava e si scusava più volte prima di entrare. Alberto la guardò con occhi stanchi e provati. La sua preoccupazione per il figlio diventava sempre più forte. «Mamma, ho così tanti problemi, e voi me ne aggiungete altri», le disse guardandola. «Non so come cavarmela qui. Torno a casa per avere almeno un po' di pace, ma non faccio altro che sentire voi due litigare. Senti, figlio mio, forse dovresti riportarmi indietro. Anche se i lavori non sono finiti. Vivrei nella mia casa, non vi darei fastidio. Avresti meno litigi qui. Non riesco a convivere con tua moglie. Non so proprio come parlarci, perché lei distorce tutto e sembra che io la attacchi, mentre in realtà mi tormenta ogni giorno. Sono anziana, ho bisogno di pace, di cura, e posso prendermi cura di me stessa. Basta che mi riporti al villaggio», disse l'anziana signora cercando di parlare con calma e scegliendo attentamente le parole. Alberto guardò sua madre senza sapere come spiegarle che non poteva riportarla in quella casa. Serrò le mascelle. E lei capì subito dal suo comportamento che qualcosa stava succedendo e che lei non sapeva nulla a riguardo. Lo osservò attentamente. Lui le diede solo uno sguardo e scosse la testa in segno di negazione. Lei capì che si stava preparando a una conversazione che sarebbe stata talmente spiacevole da ricordarla a lungo. Si sedette accanto a lui sulla poltrona per facilitargli il discorso, mentre lui, guardando verso la porta, cercava di capire se sua moglie stesse origliando. Ma proprio in quel momento squillò il telefono, si sentirono dei passi e la voce irritata di sua moglie che parlava con qualcuno a tono alto. Era il momento perfetto per parlare, così ne approfittò subito. «Mamma, devo dirti una cosa, ma promettimi che non lo dirai a mia moglie. Sai bene come reagisce a tutto. Non voglio ritrovarmi ancora in mezzo a tutto questo. A scatenare un altro scandalo, soprattutto perché ora nessun litigio potrà risolvere la situazione», disse Alberto stanco. E lei, ancora preoccupata, annui. «Mi sono cacciato in una brutta situazione. Avevo bisogno di soldi. Ti ho mentito. Non sono andato a casa tua per ristrutturarla. Ho semplicemente rifatto i documenti e ho venduto la casa. Quindi non ce l'hai più, perché mi servivano i soldi». Lei guardò suo figlio, incredula. Non riusciva a comprendere come fosse possibile che avesse deciso di lasciarla senza un tetto sopra la testa, solo per risolvere i suoi problemi. Tutto questo tempo, da quando viveva da lui, era convinta di avere una casa, un posto dove sarebbe sempre potuta tornare. E questo senza parlare del fatto che quella casa custodiva tanti ricordi che lei amava e proteggeva con cura. Ora, invece, scopriva che non aveva più nulla, non c'era più dove tornare. E per di più quella ragazza, che proprio in quel momento stava urlando al telefono con qualcuno, non era nemmeno al corrente di tutto ciò. Signora Veronica capiva che gran parte dell'ostilità di quella ragazza derivava proprio dal fatto che desiderava impossessarsi della casa. «Non c'è che dire, mi hai proprio deluso, figlio mio», disse con sincerità, scuotendo la testa e trattenendo a stento le lacrime. «Ma dovrai comunque dirlo a tua moglie. Lei mi odia proprio perché non ho voluto darle quella casa per viverci. Lo so, cerco di rimandare il più possibile quel momento. In realtà, penso che forse con lei non riuscirò a durare nemmeno un altro anno», rispose Alberto, e nel suo tono si sentiva una stanchezza immensa. Lei accarezzò la testa di suo figlio, vedendo quanto stesse male, ma era ancora offesa con lui. In fin dei conti, si era cacciato da solo in quella situazione di mancanza di soldi, e avrebbe dovuto risolverla da solo, non a spese della casa di sua madre. Doveva davvero finire in una casa di riposo adesso? Non aveva paura di quel posto, ma sperava che ci sarebbe finita molto più tardi, passando ancora tanto tempo da sola nel giardino della sua casa. Anche in vecchiaia, suo figlio le aveva tolto questa possibilità. «Non chiederò scusa, te lo dico sinceramente. Credo di aver fatto la cosa giusta. Se non avessi venduto la tua casa e avessi lasciato tutto com'era, a quest'ora non sarei più vivo», disse Alberto, tirando fuori le sigarette e accendendone una. Continuando a parlare con la sigaretta tra i denti. «Hai fatto tutto da solo a cacciarti in questo guaio, ma quando ti ci trovi dentro, vuoi fare di tutto per uscirne». Sua madre scosse la testa in segno di disapprovazione e poi uscì, lasciandolo solo. Non sapeva a cosa stesse pensando, cosa gli passasse per la testa, sapeva solo una cosa. Era terribilmente delusa da lui e non si sarebbe mai aspettata una cosa simile da parte sua. Le faceva molto male e le procurava una grande tristezza il fatto che la sua casa, che aveva tanto amato, fosse ormai abbandonata, trascurata, forse persino destinata a essere demolita. Era cresciuta in quella casa, vi aveva cresciuto i suoi figli, vi aveva vissuto felice, fino alla morte del marito, fino a quando i figli erano cresciuti e se n'erano andati. E suo figlio si era messo con quella strana donna che non riusciva ad andare d'accordo con nessuno. Signora Veronica andò in soggiorno, si sistemò sul divano e si sdraiò, cercando di dormire o almeno di fare finta, affinché Inga non la disturbasse. La mattina seguente si sentì peggio, il cuore le batteva forte, alternava sudorazione e brividi. Non avete un bel aspetto, disse Inga mentre si preparava per andare al lavoro. Forse dovremmo chiamare un'ambulanza? No, è solo la vecchiaia, la vecchiaia, rispose signora Veronica. Anche se Inga si preoccupava della sua salute, le sue parole non erano sincere. Lo faceva solo perché suo marito era presente. Se lui fosse già uscito per andare al lavoro, non avrebbe nemmeno notato lo stato di salute di signora Veronica. Ma la vecchia signora sperava che le sue condizioni migliorassero, che si sentisse meglio il giorno successivo. Ma col passare dei giorni la situazione peggiorava. E capiva sempre di più che qualcosa di spiacevole stava succedendo. Sentiva di diventare sempre più debole, giorno dopo giorno. Sì, è tutto finito. Serve urgentemente un'altra dose. Sentì signora Veronica attraverso il sonno. La voce di Inga era molto bassa, quasi un sussurro, ma dato che era molto nervosa, le sue parole si diffondevano per tutta la casa vuota, come se stesse parlando con un altoparlante. A causa della sua ansia, probabilmente nemmeno se ne accorse. Signora Veronica si sollevò leggermente dal divano, voleva alzarsi, ma sapeva che appena si fosse alzata, il divano avrebbe scricchiolato. Inoltre, aveva un tale capogiro che non riusciva nemmeno ad andare in bagno senza appoggiarsi alle pareti. Non lo so, pensavo che a quest'ora sarebbe stato tutto fatto, ma questa vecchia è più resistente di quanto pensassi, disse Inga, visibilmente infastidita. E tutto divenne subito chiaro. Signora Veronica capì che la moglie di suo figlio la stava avvelenando con qualcosa di sconosciuto, e più restava in quella casa, peggio stava, finché non sarebbe finita lì per sempre. Signora Veronica si sdraiò di nuovo, immaginando che se il giorno dopo fosse ancora cosciente, se non avesse mangiato né bevuto nulla fino a quel momento, avrebbe forse potuto chiamare un'ambulanza non appena Inga e suo figlio fossero usciti per andare al lavoro. Non avrebbe detto nulla a suo figlio, perché sapeva che non le avrebbe creduto, difendendo ancora sua moglie, qualunque cosa avesse fatto. Il giorno successivo, non appena Inga uscì per andare al lavoro. Irritata dal fatto che la vecchia signora non avesse bevuto l'acqua che le aveva portato, signora Veronica cercò un telefono, ma Inga probabilmente li aveva presi tutti. E non c'era alcun dispositivo con cui poter fare una chiamata. Sentiva che stava per svenire, uscì dall'appartamento, bussò alla porta del vicino e riuscì solo a dire che aveva bisogno di un'ambulanza, prima di perdere i sensi. La signora Veronica si risvegliò in rianimazione, ma i medici che la circondavano aggiunsero subito qualcosa alla flebo, e lei si spense di nuovo. Qualcuno continuava a parlarle, ma lei non capiva quasi nulla. Attraverso una specie di torpore, vedeva medici e infermieri che si affaccendavano intorno a lei, cercando probabilmente di riportarla indietro dal regno dei morti. Quando la signora Veronica si risvegliò di nuovo, si trovava già in una stanza, senza alcuna frenesia intorno a lei, e fissava semplicemente il soffitto candido, che splendeva piacevolmente grazie alla pulizia, riflettendo i raggi del sole che entravano dalla finestra. Devo ammettere, pensavo che non si sarebbe più svegliata. Mi scusi se lo dico così, ma davvero, la sua condizione era molto grave, ha avuto un avvelenamento grave, e alla sua età questo è praticamente un preludio a un esito fatale. Bene, adesso chiamo i suoi figli, che vengano a prenderla. No, 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 protestò la signora Veronica. La prego? Non posso tornare a casa, dica ai miei figli che sono morta, altrimenti, se torno a casa, morirò davvero. Il medico la guardò, visibilmente confuso, senza capire come reagire a una situazione del genere. Voleva uscire per consultarsi con i colleghi, ma la vecchia alzò subito la mano, cercò di alzarsi e lui si affrettò verso di lei per impedirle di farlo. Dica loro che sono morta, che cosa le costa? Tiri per le lunghe, e poi dica che mi sono donata alla scienza, così non avranno il corpo. Non ho eredità, quindi non aspetteranno nulla. Le darò la mia carta per pagare la stanza, e nel frattempo penserò a cosa fare, disse la signora Veronica. Il medico, che la guardava con sconcerto, provava pietà e compassione per lei. Anche lui temeva che, da anziano, i suoi figli potessero abbandonarlo, costringendolo a restare in ospedale, terrorizzato all'idea di tornare a casa, dove magari lo avrebbero avvelenato per l'eredità o per qualche metro quadrato in più. La signora Veronica, per la prima volta dopo tanto tempo, si accorse che la sua mente era limpida e, senza tutte quelle medicine con cui Inga la riempiva, si sentiva molto più leggera. Giaceva nella stanza, riflettendo su come avrebbe reagito suo figlio a quella notizia, ma sapeva che non avrebbe reagito quasi per niente, perché per lui l'importante era compiacere sua moglie, anche a costo della vita di sua madre. Inoltre, scoprì che non si trovava in ospedale da poche ore, come le sembrava, ma da diversi giorni, e né suo figlio né Inga erano venuti a farle visita o a informarsi sul suo stato di salute. Le dispiaceva che i suoi figli la trattassero con tanta crudeltà, ma si era ormai rassegnata e si era costretta a concentrarsi sulla ricerca di una soluzione per dove andare dopo essere uscita dall'ospedale, perché altrimenti sarebbe finita per strada. Quando Alberto entrò nell'ospedale, non sapeva cosa aspettarsi dal medico, ma segretamente si aspettava che gli dicesse che sua madre non c'era più, porgendogli le sue condoglianze e tutto il resto. Era stanco di sopportare i continui litigi tra sua madre e sua moglie, e sarebbe stato molto più facile per lui se sua madre avesse trovato finalmente pace, evitando così di dover ascoltare ancora né sua moglie né le lamentele di sua madre per la casa che aveva venduto. Era terribilmente esausto, tanto che a malapena riusciva a stare in piedi, ma era venuto per sapere notizie che, forse, lo avrebbero sollevato. Mi sembra che la soluzione migliore per noi ora sarebbe se non si fosse svegliata. Inga parlò con sincerità, scegliendo attentamente le parole, in modo che suo marito non sospettasse minimamente che la colpa del ricovero della madre fosse in realtà sua. Inga però aveva previsto tutt'altro epilogo. Sperava che dalla loro casa la madre finisse direttamente all'agenzia funebre e poi al cimitero. Senza passare per la rianimazione. Capiva che la vecchia poteva aver intuito quello che stava succedendo e per questo era uscita dall'appartamento, bussando alla porta della vicina per chiamare l'ambulanza. Ma sapeva anche che, nonostante tutto, la vecchia non avrebbe denunciato nulla alla polizia. Inga sapeva che quella donna, nonostante il suo carattere, amava profondamente il figlio e non avrebbe voluto rovinargli la vita. Quando il medico si avvicinò e disse loro che la madre era morta, Alberto lo guardò svalordito, senza versare una lacrima. Inga, invece, decidendo che quello fosse il momento giusto per esercitarsi nelle sue doti di attrice, mise in scena un vero spettacolo. Piangendo e lamentandosi in modo plateale, persino il medico, che in fondo non era particolarmente coinvolto, si accorse chiaramente che stava solo recitando. Alberto, osservando sua moglie, rimase sorpreso, mentre lei pensava di esprimere il suo dolore in maniera molto convincente. «Basta, smettila di fare la commedia, vai in macchina», disse Alberto, facendola rendere conto di quanto fosse stata ridicola tutto il tempo. Si girò bruscamente e si diresse verso l'auto, i tacchi appuntiti che facevano un rumore fastidioso sul pavimento. «Quando potremo recuperare il corpo?», chiese Alberto, continuando a guardare il medico, che capì subito che la vecchia non voleva tornare in quella famiglia. «Non solo a causa della nuora, ma anche per l'indifferenza del figlio. Ha donato il suo corpo alla scienza, quindi non dovrete preoccuparvi del funerale. Se vi serve un documento o il certificato di morte, dovrete aspettare almeno qualche mese, finché tutto non si sarà risolto. Capite, abbiamo trovato così tante tossine nel suo sangue che non possiamo semplicemente lasciar perdere», disse il medico. Alberto annui e uscì dall'ospedale. Non gli servivano quei documenti, perché la madre non aveva più alcuna eredità, e l'unica cosa che avrebbe potuto lasciare ai suoi figli, lui l'aveva già venduta, praticamente svenduta per ripagare i debiti. Continuava a pensare a cosa fare adesso. Ma l'idea che a casa sarebbe tornata la calma e il silenzio lo emozionava più della morte di sua madre. Quando Alberto si sedette in macchina, sua moglie era visibilmente nervosa e aveva già ripreso a rosicchiarsi le unghie, rendendo le sue dita un vero orrore. Alberto sospirò, si appoggiò al sedile e sentì il mal di testa che iniziava dalla nuca spostarsi lentamente verso la fronte. Non voleva parlare con sua moglie in quel momento, non voleva discutere della morte di sua madre, ma ancor meno desiderava che lei cominciasse a parlare di quell'eredità che aveva tanto atteso. Senti, facciamo così, lo so che ti piace chiacchierare, ma aspettiamo di arrivare a casa. Ho un mal di testa così forte che, se cominci a infastidirmi, credimi, non finirà bene, la avvertì Alberto. Lei annui, chiaramente non intenzionata a parlare in quel momento. Voleva solo arrivare a casa, bere qualcosa e calmarsi. Dentro di lei ribollivano tante emozioni positive che non sapeva come contenere. Non sapeva per quanto tempo avrebbe continuato a gioire per quell'evento, ma una cosa era certa. Tutto nella sua vita ora si sarebbe sistemato esattamente come aveva previsto. La rendeva inquieta l'idea che, ora che avrebbero ottenuto la casa e si sarebbero trasferiti in campagna, avrebbe potuto aprirgli una piccola attività, guadagnare e rimanere sempre impegnata. O forse, al contrario, avrebbe fatto lavorare suo marito. Mentre lei si sarebbe occupata solo di se stessa, pregustava un futuro felice, mentre il resto della vita sembrava scorrere davanti ai suoi occhi senza alcun significato. Lui vedeva il suo volto raggiante e cominciò a nutrire baghi dubbi. Gli passò per la mente il pensiero che fosse stata proprio sua moglie a causare il ricovero della madre in rianimazione. Tuttavia, non aveva intenzione di indagare ulteriormente. Nessuna polizia sarebbe intervenuta, il che significava che sua moglie era al sicuro, e lui poteva finalmente tirare un sospiro di sollievo. Quando arrivarono a casa, lei si era già un po' calmata, ma non riusciva comunque a nascondere l'espressione gioiosa che le illuminava il volto. Era letteralmente radiosa, e lui capiva che la morte di sua madre le aveva fatto bene, per quanto orribile potesse sembrare. Appena avremo le carte, quando otterremo l'eredità, non ci sarà più nulla di cui preoccuparsi. Ci trasferiremo in quella grande casa o la venderemo per una somma folle, visto quanto è antica e bella, un vero capolavoro di architettura. Avremo così tanti soldi, apriremo un'attività e smetteremo di preoccuparci del denaro. Ho paura solo a immaginare quanto bene ci andrà, disse Inga. Si tolse il cappotto, si sfilò le scarpe e si lasciò cadere sul divano. Sollevò le gambe sul bracciolo del divano e, sorridendo, ridacchiava mentre guardava suo marito. Ma vide che il suo volto era cupo. Tuttavia, lo attribuì alla tristezza, senza sospettare minimamente quello che lui le avrebbe detto di lì a poco. Lui si sedette accanto a lei, e lei, continuando a guardarlo negli occhi, non smetteva di sorridere, sperando che il suo sorriso facesse sorridere anche lui. Va bene, ormai non ha più senso nascondere nulla, non c'è nessuna eredità, disse lui, guardandola dritto negli occhi. Come sarebbe, non c'è eredità, chiese lei, e il sorriso le scomparve immediatamente dal viso. Lo fissò, e lui, consapevole che non c'era modo di tornare indietro, continuò, già sei mesi fa, quando ho portato via mia madre, non ho fatto nessuna ristrutturazione. Mi sono cacciato nei guai, ho un sacco di debiti, e quella casa l'ho venduta per saldarli. Ho usato i soldi non per i lavori o per il bilancio familiare, ma per estinguere i debiti, disse lui, vedendo come ogni sua parola trasformava l'espressione di sua moglie. All'inizio lo guardava attraverso una sorta di velo di dubbio, poi si fece strada all'incomprensione, e infine la rabbia, la più pericolosa per lui. Sapeva che la conversazione non si sarebbe conclusa senza una scenata, e si era già preparato mentalmente a resistere al suo sfogo. Ma per il momento lei lo guardava soltanto, cercando forse di ripetere nella sua mente quanto accaduto, o tentando di convincersi che stava succedendo davvero. Ho capito bene che per tutto questo tempo, mentre io lottavo con tua madre per l'eredità, tu avevi già venduto quella casa da tempo, disse lei con un tono relativamente calmo. Ma lui vedeva che stava per esplodere, come un vecchio bollitore in procinto di fischiare. Lui rimase in silenzio. Alla fine, stare zitto in quel momento era la cosa più sicura. Lei si alzò, incominciò a sovrastarlo, ancora incapace di credere alle proprie orecchie. Deglutì, e lui capì che la sua rabbia stava solo peggiorando. E se non avesse parlato lui per primo, lei sarebbe esplosa. Non capisci in che situazione mi trovavo, non puoi capire quanto fosse difficile per me e che stavo lottando per la mia vita. Hai idea di quanto sia stato complicato per me, disse, alzando la voce nel tentativo di farla sentire colpevole. Ma lei non era così ingenua. Anche se era facile farla reagire emotivamente, sapeva perfettamente di non avere colpa. Non me ne importa niente. Sai almeno cosa ho fatto io per ottenere quell'eredità. Mi sono rovinata l'anima per il resto dei miei giorni. Pensavo che avremmo venduto quella casa o ci saremmo trasferiti, che avremmo cambiato in qualche modo la nostra vita. E tu, di nascosto, senza dire nulla ne ammene a tua madre, hai semplicemente venduto quella casa, disse lei, incredula, senza riuscire a credere che l'uomo che amava e di cui si fidava potesse fare una cosa del genere. Lui tacque di nuovo, parlare in quel momento era inutile. Voleva che lei si sfogasse, si liberasse delle sue emozioni. E poi sarebbe stato più facile trovare un terreno comune. Certo, questo litigio poteva durare ore, ma prima o poi lei si sarebbe arresa. E lui avrebbe potuto parlare con lei e discutere sul da farsi. Lei non sospettava nemmeno che, nonostante avesse venduto la casa, aveva saldato solo un quinto del debito enorme che doveva essere estinto il prima possibile. La signora Veronica, seduta nella sua stanza d'ospedale, guardava fuori dalla finestra, senza riuscire a trovare una soluzione a ciò che la tormentava. Non sapeva dove andare. Doveva tornare al villaggio da una vecchia amica. O forse sarebbe stato meglio andare davvero in una casa di riposo, dove qualcuno si sarebbe preso cura di lei. Signora Veronica, sono venuti a prenderla, disse il medico, affacciandosi alla porta della stanza. Sul suo volto c'era un sorriso strano, come se avesse smesso di provare pietà per lei e fosse invece contento di come si stavano mettendo le cose. Chi è venuto? Chiese lei, sorpresa, alzandosi e sentendo di stare molto meglio. Non lo so, una ragazza. Dice di essere una vostra parente, ma appena la vedrete capirete subito, rispose il medico. La vecchia, rendendosi conto che non aveva altra scelta, decise comunque di uscire. Ma quando entrò nella sala d'attesa e vide la ragazza che era venuta a prenderla, rimase senza parole. La ragazza aveva gli stessi occhi a mandorla di suo marito, dello stesso color turchese, con gli stessi capelli chiari e persino i lineamenti, solo molto più belli e femminili rispetto a quelli di lui. Nella testa di Veronica passarono migliaia di pensieri, ma una cosa era chiara. Quella davanti a lei era evidentemente la figlia di suo marito. Preparati, parleremo lungo il tragitto. Ti aspetto, disse la ragazza. La signora Veronica, senza dire una parola, decise di affidarsi al destino. Tornò nella sua stanza, raccolse tutte le sue cose, e uscendo di nuovo nella sala d'attesa, camminava accanto alla ragazza, ma continuava a non parlare. Non poteva credere che tutto quel tempo lui l'avesse tradita. Lo amava così tanto. Le sembrava che vivessero in perfetta armonia, e invece lui l'aveva tradita. Non riusciva a comprendere come avesse potuto farle una cosa simile, usarla solo per godere del comfort, mentre continuava a cercare altre donne. Salì in macchina, e quando uscirono dalla città, la vecchia signora non riuscì più a trattenersi e si voltò verso la ragazza. Questa però sorrise appena, un sorriso senza rabbia, solo con una certa dolcezza e la consapevolezza che, per quanto volesse rimandare, quella conversazione sarebbe stata inevitabile. So che appena mi avete guardata avete capito tutto. So che, soprattutto dopo una situazione così difficile nella vostra vita, tutto questo sarà un altro duro colpo. Ma forse sono l'unica persona che vi è rimasta. Tuttavia, devo deludervi. In realtà, non sono la figlia di vostro marito, disse la ragazza con un sorriso, guardando la donna anziana, ancora scioccata. Ma somigli così tanto a lui, disse la signora Veronica, e la ragazza rise. Sì, lo so, ma non somiglio a vostro marito, bensì a suo fratello. Probabilmente non lo sapevate nemmeno, ma aveva un fratello con cui non parlava da molti anni. Si erano litigati così tanto che non riuscirono mai a fare pace, nemmeno fino alla morte. Erano molto simili, quasi come gemelli, anche se c'erano quasi quattro anni di differenza tra loro. Comunque, tutto questo ormai non è più così importante. L'importante è che almeno ci siamo conosciute. Ho saputo di voi attraverso una conoscente comune, che mi ha raccontato che stavate attraversando un periodo molto difficile. Ho scoperto di vostro figlio e sono subito venuta in ospedale per sapere del vostro corpo e per darvi una degna sepoltura. Ho scoperto che siete ancora viva, quindi ora sono qui per portarvi con me, disse la ragazza. Meglio non chiedermi con quali vie traverse sono riuscita a ottenere queste informazioni. E adesso? Non voglio essere un peso, tanto più che mi conoscete appena, rispose la vecchia signora. Si vergognava di non conoscere quella sua parente, ma ancora di più si vergognava di aver sospettato che suo marito l'avesse tradita. Vivo da sola, in una grande cittadina. Ho una casa piuttosto grande, un cane molto dolce e un grande giardino. Credetemi, avrete sempre un posto sia per stare con me che per rimanere da sola se vi stuferete della mia compagnia. Vivo da sola, e ho deciso che sarà così anche in futuro, quindi la vostra compagnia sarà solo un vantaggio per me. Non preoccupatevi, andrà tutto bene, disse la ragazza con un sorriso. Ma perché sei venuta a prendermi? Nemmeno mi conosci, e in fondo non sono nemmeno tua parente di sangue, disse incredula la signora Veronica. Era davvero sorpresa, perché persino suo figlio l'aveva abbandonata. Aveva scelto di stare dalla parte di sua moglie, che aveva cercato di avvelenarla per l'eredità. E ora, una ragazza che a malapena conosceva era venuta a prenderla per permetterle di passare il resto della sua vita con lei. Sapete, mio padre era un uomo molto crudele. Vostro marito non ve l'ha mai detto, ma veniva a casa nostra e mi difendeva sempre. Si prendeva cura di me con una gentilezza che mio padre non ha mai mostrato. E vostro marito, mio zio, parlava sempre di voi con tanto amore e tenerezza. E io ho sempre voluto conoscervi. Anche se non sono vostra parente di sangue, credo che possiamo diventare una vera famiglia, concluse la ragazza. Non passò nemmeno un mese da quando iniziarono a vivere insieme, e si resero conto che potevano davvero convivere. Gestire la casa senza litigare e semplicemente godere della compagnia reciproca. Ogni giorno, quando la signora Veronica si svegliava, ringraziava quella ragazza per aver deciso di prenderla con sé, anche senza conoscerla veramente. Non pensava più a suo figlio, solo di tanto in tanto i suoi pensieri vagavano, ma tornava presto a concentrarsi sulla sua nuova casa e sulla sua salvatrice, evitando di pensare ad Alberto. La sua vita era cambiata radicalmente, ma la cosa più importante era che, nonostante tutto, era riuscita a trovare una famiglia, anche se non di sangue. 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 Anche se non...